Conferire la cittadinanza onoraria a segretario USA Mike Pompeo è la proposta che arriva da gruppo consigliare di opposizione direzione Pacentro che per il tramite del suo capogruppo Enzo Battaglini ha chiesto la convocazione in un consiglio straordinario per il conferimento della cittadinanza onoraria Pompeo. Il gruppo consigliare di minoranza del comune di Pacentro ha presentato una richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario per il riconoscimento della cittadinanza onoraria Mike Pompeo segretario di Stato negli Stati Uniti d'America di origini pacentrane. In occasione della sua visita istituzionale in Italia il segretario di Stato statunitenza visiterà Pacentro per recarsi nella vecchia casa di via San Francesco dove vivevano i suoi bisnonni e questa è l'occasione secondo il gruppo consigliare per consegnare l'importante riconoscimento che da lustro anche alla nostra comunità scrivono da direzione Pacentro facendo notare che la sua iniziativa di visitare il nostro paese dimostra attaccamento alle sue origini pacentrane e non possiamo non riconoscere il valore dell'uomo e della sua figura di elevato profilo internazionale.